Ciao ragazzi! Il tema della morte è sicuramente un tema molto dibattuto e anche molto interessante. Da sempre milioni, miliardi di persone si interrogano su questo tema, su che cosa sia la morte e su che cosa ci sia dopo la morte. Un libro molto affascinante è questo, il libro tibetano dei morti. Ti consiglio l'edizione a cura di Giuseppe Tucci. Però io personalmente trovo decisamente più affascinante il tema su che cosa ci sia prima della morte. E questo perché miliardi di persone in tutto il mondo pensano alla morte e intanto non si accorgono della vita. Miliardi di persone vivono preoccupate della morte e si dimenticano di vivere, si dimenticano di godere della vita e di godere di questa esperienza materiale sul pianeta Terra. Un po' come quelle persone che portano i fiori ai morti, al cimitero e poi non hanno nessuna empatia con i vivi. Regaliamoli ai vivi i fiori che tanto i morti hanno altro a cui pensare. Non dobbiamo fare l'errore di andare a dormire già pensando alla sveglia senza poi neanche godere della notte, del sonno ristoratore. Il mio messaggio, il mio consiglio è vivi qui adesso e occupati della vita. Tanto il finale già lo sappiamo, quindi pensa a goderti la vita e a goderti i vivi. Namaste.